A distanza di un anno dalla tragico incidente in cui perse la vita a un meranese sulla Mebo, un'analoga disgrazia si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri nello stesso punto nei pressi dell'uscita per Merano Centro sulla corsia nord della superstrada dove un motociclista tedesco di 29 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un camioncino che secondo alcuni testimoni stava viaggiando contro mano. Il centauro era diretto verso Lagundo quando improvvisamente si sarebbe trovato davanti il camioncino che trasportava cubetti di porfido. Il giovane è stato sbalzato dalla sella e volato per alcuni metri andando a sbattere la testa contro una Mercedes guidata da una 26enne di Marlengo ed è finito poi esanime sull'asfalto. Nel frattempo il camioncino proseguiva per qualche decina di metri terminando la sua corsa contro un Audi con a bordo due persone. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 che però nulla hanno potuto fare per il motociclista mentre le tre persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate all'ospedale Franz Tappainer con ferite non gravi. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale sia per i rilievi di legge che per regolare il traffico che ha subito pesanti disagi.